Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Amici di Radio Bruno siamo sempre qui a Sanremo ed è venuto a trovarci ultimo Ciao a tutti Ciao, benvenuto nella nostra casetta qui a Radio Bruno Allora subito una domanda per te, le tue emozioni, cosa hai pensato quando sei arrivato a Sanremo? È stata una sensazione forte, soprattutto perché ho faticato molto per arrivarci perché è un palco che ho sognato fin quando ero bambino Quindi per me è una soddisfazione grandissima e anche una responsabilità perché il palco ha una storia importante Quindi devi essere sempre sul pezzo Ecco tu hai iniziato da giovanissimo, sei giovanissimo ma da piccolo a studiare il pianoforte al conservatorio Com'è stato il tuo percorso musicale per arrivare fino a qua? Sì ho iniziato negli studi del pianoforte dagli 8 ai 18 anni, quindi più o meno 10 anni di studio E nel frattempo ho comunque scritto delle canzoni Ho iniziato a scrivere alle 14 anni, comunque perché ascoltavo molto il canto autorato italiano E quindi cercavo di prendere spunto dagli esponenti del canto autorato E poi è stata che piano piano ho maturato sempre di più questa passione, non ho mai avuto un piano B, ho sempre fatto solo questo E poi quest'anno è stato l'anno della soddisfazione di ritrovarmi qui a Sanremo, quindi una cosa, una soddisfazione importantissima Hai sempre seguito il festival di Sanremo, c'è una canzone che ti è rimasta impressa nel cuore? Del festival sicuramente anche se non ero nato, Vita Espericolata di Vasco, che è una canzone dell'83 Io la conosco ovviamente, non ero nato ma l'ho ascoltata su Youtube Mentre invece da quando seguo il festival c'è Chiamami ancora amore di Vecchioni Che è un pezzo con cui ha vinto mi sembra il 2012 e secondo me è un pezzo bellissimo Hai aperto anche il concerto di Fabrizio Moro, anche lui in gara a Sanremo 2018 Ti ha dato qualche consiglio, insomma siete rimasti in contatto, vi sentite? Sì, sì, ci siamo visti, ci vediamo spesso qui a Sanremo Il consiglio suo è stato quello di divertirmi, di prenderla come un'esperienza che comunque a prescindere può portare soltanto cose positive In effetti è la verità, il problema è poi applicare questa cosa perché divertirsi in queste situazioni E' facile solo consigliarlo, poi sono sicuro che anche lui sarà agitato come è giusto che sia Quando si è sul palco, insomma, si è lì da soli davanti a un pubblico incredibile Esatto, che non finisce lì, capito, perché c'è le telecamere Appunto Esatto Parliamo invece del brano che porti sul palco dell'Arison e il ballo delle incertezze Un brano, insomma, intenso e dedicato a chi? Scrivere per rappresentare un po' quelle persone che si sono sentite, non dico escluse, ma inadatte a determinati contesti Di vivere delle situazioni in cui mi sentivo un po' una pegora nera, no? Perché sono sempre stato un po' per i fatti miei, un po' mi sono autoescluso più che... non mi hanno escluso gli altri, capito? E quindi è un brano dedicato a chi decide di guardare la partita senza giocarla e lo decide da sé Cioè a chi si autoesclude dal gioco della vita Ecco, è un brano dedicato a chi sta ai margini per scelta, a chi non vuole far parte del teatrino, ecco Insomma, è un brano dedicato un po' a tutti quanti, perché almeno una volta nella vita tutti quanti ci siamo sentiti delle pecore nere, no? Sì, esatto, esatto Invece il 6 ottobre esce il tuo primo album, Pianeti Sì, un album che... Hai avuto già un grandissimo successo, no? Sì, è andato molto bene l'album Poi è un album a cui io sicuramente sarò legato per sempre come secondo me l'album mio preferito Perché è il primo che porta tutte le canzoni da quando ho cominciato a scrivere, no? Ci sono delle canzoni scritte a 15 anni, altre a 14, addirittura nell'album E poi abbiamo fatto questa scelta, quando è venuto Sanremo, di non fare soprattutto un repack di Pianeti Che era la scelta più scontata, ma di scrivere un altro album, perché io i pezzi comunque ce li avevo Ci siamo buttati in studio e in un mese abbiamo chiuso un altro album Che uscirà il 9 febbraio e si chiama Peter Pan Che però ha una connessione con Pianeti Perché comunque sono tutti e due album basati sulla fantasia, sull'immaginazione Sulla possibilità di evadere con la testa L'immaginazione è un bene sottovalutato oggi purtroppo Ultimo, io ti ringrazio Grazie a voi Spero di rivederti qui a Radio Bruno E ti chiedo un saluto per tutti gli amici di Radio Bruno che ti ascolta Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno, da ultimo, ciao Grazie, ultimo Grazie, grazie a voi Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon, Modena Giochi, Alessara Gesthaus, Mondo Convenienza, Rosanna Alpi, Concessionaria Renaud Franciosi, Cornacchini, ODS Giocattoli e Biperbanca